Non c'è tempo da perdere, Furio. Cosa ci facciamo qui fuori? La scorsa notte, in sogno, un grosso corvo mi ha parlato, indicandomi questo luogo. Anche noi siamo stati richiamati qui. E voi chi siete, stranieri? Sono Thrall, figlio di Durotan, capo dell'Orda. Io sono Jaina Prodmur, capo degli umani sopravvissuti di Lordaeron. Non siete benvenuti qui. Calma, sacerdotessa. Loro sono qui per aiutarti contro la legione. Eri tu nei miei sogni. Ma chi sei per proporci una simile offerta? Io sono il motivo del ritorno della legione. Anni fa condussi gli orchi in questo luogo. Così facendo, aprì la strada anche ai demoni. A causa dei miei peccati, fui ucciso da coloro che amavo maggiormente. Nonostante la mia morte, la guerra dilagò sulle terre dell'est per moltissimi anni, devastando interi reami. Ora finalmente sono tornato per rimettere a posto le cose. Io sono Mediv, l'ultimo guardiano. Ascoltate le mie parole. L'unica possibilità di salvezza consiste nell'unire i vostri eserciti contro i nemici di ogni essere vivente. L'unica possibilità di salvezziare i vostri eserciti.